Sto lavorando per uno speciale di domani sera dove Maurizio Vandelli sarà in studio con me per We Have Dream e io lavoro così mentre lavoro c'è tutto aperto tutto in computer eccetera e guardate lei sta qui cioè lei è qui e cosa fai tu qui e lei vuole stare vicino a me e mi dai una ma non è il montaggio è piccola. Francesco Lucini mi ha detto visto che è sua garzone che voi avete un grosso coraggio a fare queste canzoni perché cantare allora voi cantate l'amore di uno che è ammazzato in un campo di concentramento era molto sì infatti è stato un grosso coraggio è stato un grosso coraggio e devo dire onestamente che abbiamo sofferto non è mica vero abbiamo